Questo programma contiene linguaggio volgare. Adesso che Victoria si è chiarita con Marissa, tutte le celebrity possono riunirsi per aiutare Joy a fare una domanda importante a Lorena. Lorena, possiamo parlare un attimo? Sì. Vieni con me in camera? Torno subito. Ok. La mia piccola. So che sembra strano, ma vieni dentro con me. Ho visto Georgia portare Lorena in camera. Operazione fidanzata attivata. Andiamo, andiamo. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni veloce, dai. Ok, ho pensato di fare un balletto per Ash. Pensavo una cosa tipo... Dammi una A. Dammi una S. Dammi una H. Dammi un Ash. E poi gli direi... Mi piaci Ashley. Mi piaci Ashley. Mi piaci Ashley. Oh, oh, Ashley. Dove c***o sono i petali? Quali petali? Non do' prenderli. Cavolo. Dobbiamo preparare tutto. Dove sono le rose? Ragazzi, dai, andiamo, prepariamo tutto. Mi piaci Ashley. Mi piaci Ashley. Mi piaci Ashley. Sì. Lorena non ne ha idea. Porca miseria. Porca miseria, c'è dello champagne. Va tutto bene, va tutto bene. Così, sì. Ok, andiamo, andiamo avanti. Ehi, viva l'amore. Viva l'amore. Mi piaci Ashley. Mi piaci Ashley. Sì. Grazie mille, amico. Figurati, bello. Noi ti guardiamo dall'alto, vai tranquillo. Adesso è ora di portare a termine il mio piano. Ma che cosa fate, pazzoidi? Meglio che non te lo dica. Prepara un balletto. Che cosa fate col sombrero? Aspettate qui, devo parlare con Ashley. Aspettate. Non lo fai adesso, vero? Non lo farei mai senza di te. Di cosa parlate? Farà un balletto per Ashley. Non ci credo. Guarda come sei emozionata. Sono emozionatissima. Vieni con me, vieni. Vieni con me, vieni. Dai. Dai. Cosa state combinando? Eccoli! Cosa fate lì? State bevendo? Mi è caduto il sombrero. Amore, 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 vieni con me. Due secondi. Faccio il balletto tra due secondi. Ma che diavolo sta succedendo? Vieni con me, vieni con me. No, amore. Vieni, amore, vieni. Vieni, vieni con me. Ma dove vuoi andare? Voglio fare qualcosa di speciale per te stasera. Ma in che senso qualcosa di speciale? Voglio fare qualcosa di speciale. Oh no, ma dici sul serio? Ti piace? Joy, è bellissimo. Davvero? C'era champagne, c'erano rose, c'erano petali ovunque. Ho pensato, ma che cavolo sta succedendo? Amore. Champagne? Sì. Vuoi da bere? Dai. Joy, non perdere tempo. Muoviti. Wow, 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 wow. Ma che succede? Oh, voi, ma... Eh? Wallop. Sta piovendo. Davvero? Piove, amore, guarda. Sono nervoso. Non ho idea di che cosa risponderà. Voglio solo essere sincero. Non mi aspettavo di trovare una come te, ma è successo e... Mi sento davvero... Sono, 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 sono innamorato di te. È così. Stai dicendo sul serio? Ti amo, sul serio. Sta piangendo, gliel'ha detto. Non sono triste, è solo che è tutto... Non piangere, non piangere, ti prego. No, ma non sto piangendo. È solo che è tutto così bello. Sono solo un po' nervosa. Sei dolcissimo. Amore, ascoltami, io... Io non riesco... Non posso mentire, io... Ho bisogno di dirtelo. Vuoi essere la mia ragazza? Dici davvero? Sì. Sì. Evviva! Mi ha chiesto di essere la sua ragazza. È ufficiale. È ufficiale, sì. Lei ama me e ora ho una ragazza. Ma come è successo? Bravi! La sua ragazza è la sua ragazza.